Abbiamo provato anche i bazooka perché erano armi nuove per noi e Fiorello era un mago per queste cose qua, ci studiava, le guardava, gli dice dai che stasera ne andiamo a provare uno sulla strada di Cavriago, è passato un camion, infatti io stavo chinato, me la poggiava sulla spalla e lui la manovrava, 6 kg di esplosiva, il camion è volato fuori strada. La lotta era quella.